È fissata al prossimo 6 novembre l'udienza davanti al TAR che dovrà decidere sul futuro della centrale a biomasse che la società futurista aquilana intende realizzare nella zona S del capoluogo, tra le frazioni di Bazzano e Monticchio. I giudici amministrativi si pronunceranno sul ricorso presentato da un'associazione che si oppone alla nascita della centrale da 4,9 MW e che dovrebbe utilizzare legname provenienti dal territorio regionale, derivante da manutenzione agricola e forestale, tra cui rientra anche il verde urbano talmente smaltito in discarica. Comitato dei cittadini, Ollus e Salviamo Paganica, Prologo di Onna, da tempo si sono attivati per raccogliere firmi contro l'impianto sul quale i contestatori nutrono forti riserve sia per la qualità dei materiali che verranno bruciati, sia per l'atto tasso di inquinamento che prevedono aumenti nella zona a causa dei camion per il trasporto e per il materiale da combustione. Un'area ad altissima densità di popolazione. Se infatti le biomasse vergini verrebbero bruciate nel nucleo industriale tra Bazzano e Monticchio, a poche centinaia di meri insistono piastre delle Newtown e casette in legno realizzate dopo il terremoto e dove attualmente risiedono centinaia di famiglie. L'area in cui la Futuris Aquilana, composto dalle società Futuris SPI e dalla MD Power Engineering, ha progettato la costruzione dell'impianto a pochi mesi dal sisma del 2009, è già stata recintata, ma fino al pronunciamento del Tarra non ci potrà essere alcun inizio lavori, nonostante i pareri favori avrebbero raccolti in sede di conferenze di servizi e quindi con il placeto delle istituzioni locali che sulla vicenda finora non hanno espresso alcun parere. La senatrice Grillinanza Blunda aveva annunciato un'interrogazione a Palazzo Madava mentre a sostegno della centrale a Biomasse si era espressa senza riserve di Confindustria, contrapposizioni che danno l'idea del clima che si vive in città sulla vicenda a Biomasse, anche se i comitati sono fiduciosi sull'esito del ricorso, visto che a tre anni fa in campagna è stato chiuso a Casa Nuova in provincia di Napoli, un impianto simile a quello che si vorrebbe retirare su all'Aquila.